In America i youtubers sono nel panico più totale, mentre qui ancora nessuno ne sta parlando. Il regolamento di youtube è cambiato all'improvviso ed è un grosso vaffanculo per tutti i creatori di contenuti. E se anche tu sei un youtuber c'è il 99% di possibilità che la faccenda riguarda anche te. Se prima pensavate che qui su youtube vicesse la libertà di parola, beh, vi sbagliavate anche prima. Ora però le cose sono diventate molto peggio, e i vostri video possono essere cancellati o demonetizzati in qualsiasi momento. Ed è proprio quello che sta succedendo. Youtube vieta, linguaggio inappropriato, compreso molestie, blasfemia e volgarità. Quindi parole come cazzo, merda e puttana non possono essere utilizzate. Il peggio però è un altro divieto. Youtube ritiene inappropriati. Argomenti ed eventi controversi o delicati come guerre, conflitti politici, disastri naturali e tragedie. Anche se non vengono mostrate immagini. Ovvero non si potrà più parlare di terremoti, politica, pedofilia e in generale youtube ci diffida dall'esprimere un'opinione. Ma com'è che funziona? In pratica c'è una lista di parole bandite che vengono cercate in automatico da youtube, nei titoli, nei tag e nelle descrizioni. Perciò se ad esempio avete fatto un video che tratta, che so, di religione, stupro o anche semplicemente di notizie prese dal telegiornale, esso potrà essere demonetizzato o bloccato. E persino gente come PewDiePie ne sta subendo le conseguenze. In generale sono tutti incazzati, giustamente. Mi domando che fine faranno canali che già nel nome hanno la parola cagare. Scommetto poi che anche i vostri youtuber preferiti utilizzino qualche volta parolacce o battute volgarie. E soprattutto immagino che ad alcuni piace esporre delle cazzo di idee sul mondo. Queste regole vorrebbero incoraggiare il politicamente corretto. In pratica youtube vuole solo coccole e cuoricini sul proprio sito. Perciò guardatevi le spalle e le palle perché sono sul fuoco.